Domenica 5 novembre torna alla Spacca Napoli, la gara podistica organizzata dalla WISP col patrocinio del Comune di Napoli. Giunta alla 35esima edizione, la competizione propone quest'anno un percorso agonistico di 20,8 km, accanto alla tradizionale corsa per tutti su un tracciato di circa 10 km. Quest'anno rilanciamo, raddoppiando il percorso, aprendo la manifestazione anche alla competitiva, c'è tutto un mondo di competitiva che è anche amatoriale che desidera questo tipo di distanze. Sarà un po' più impegnativa ma contiamo di riuscire a mantenere alti gli standard delle precedenti edizioni. Il CONI ha dato il suo patrocinio a questa iniziativa che è sicuramente storica ed è lodevole perché consente di avvicinare i cittadini allo sport per prima cosa ma poi consente di vivere la città in una maniera particolare per tutti quelli che partecipano e per tutti quelli che assistono. Si partirà alle 8.30 in piazza Municipio per attraversare dapprima il centro storico e poi arrivare sul lungomare. Di qui il percorso agonistico e quello non competitivo si separeranno. La Spacca Napoli sostiene quest'anno la raccolta fondi per NutriAfrica, un progetto sociale che si occupa dei bambini malnutriti. NutriAfrica è un progetto che ha come scopo quello di trattare i bambini che soffrono di malnutrizione infantile. Il dottorando di ricerca della Federico II di Napoli che è Vincenzo Armini ha progettato questo alimento che è una sorta di burro di arachidi che contiene tutti i principi nutritivi necessari all'alimentazione di questi bambini. È possibile iscriversi alla Spacca Napoli sabato 4 novembre presso gli stand del villaggio Maratona in piazza Municipio oppure online sul sito www.maratonaspaccanapoli.it